Scontro tra due auto in pieno centro storico a Sulmona questa mattina a proposito della gestione della regolamentazione del traffico lungo il salotto cittadino. Lungo corso video due auto si sono scontrate dopo le 8 e 30 nei pressi dell'incrocio con via Ciofano. Una delle due auto usciva dal parcheggio e avrebbe ortata l'altra auto. La 4 ha riportato i danni più gravi alla carrozzeria. Per il resto non hanno subito alcun danno i due automobilisti che sono usciti illesi. Per loro non si è reso necessario il ricorso alle cure mediche mentre sul posto è intervenuta la polizia locale per gli accertamenti rituali soprattutto per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il traffico in una zona di punta in pieno centro ma soprattutto in un rario nevralgico ha subito dei lievi rallentamenti da cui l'intervento dei vigili urbani per gestire al meglio la situazione.